Partiamo dalla notizia di qualche minuto fa della scomparsa. Ho letto anche una notizia come voi, non so ancora nulla, adesso ho finito questo convegno, mi informerò, purtroppo non so ancora nulla, l'endesima tragedia, continuiamo a fare richiami sulla sicurezza, però obiettivamente evidentemente non si fa abbastanza, va bene i protocolli, va bene tutto, però certamente c'è da fare di più. Io mi ricordo quello che abbiamo fatto all'Expo non era semplicemente un protocollo, era una vigilanza continua dei lavori. Ora capisco che la complessità di cui stiamo parlando è molto più ampia, però evidentemente c'è qualcosa che non va. Detto ciò non sono informato sulle dinamiche, mi informerò appena finisco questo incontro.